Cazzo mi salva un finale, dobbiamo trovare un finale, io lo voglio epico, con sentimento. Alt, fermi, ce l'ho. Fine anni 90, non avevo mai visto il presidente della radio così incazzato. Fin dei conti cosa avevo fatto di male? Hai fatto masturbare una cretina in diretta telefonica nella mia radio! Te ne rendi conto? Vabbè, ma... Ma un cazzo! Questo è plagio, circonvenzione di incapace, è merda! E il fatto che tu non te ne renda conto mi fa pensare quanto sono stato scemo nel darti fiducia. Non sai dove sta il limite della decenza. Basta, basta! Questo tuo nuovo programma, questo tuo, come si chiama, zoo, mi fa schifo, mi fa vomitare! Senti, lo so, abbiamo fatto un po' i coglioni, ma guarda, guarda i dati di ascolto, guarda! Non me ne frega un cazzo di questi dati di ascolto! Per quel che mi riguarda te li puoi anche fumare! Io non le voglio queste schifezze nella mia radio! Tu con me qui hai chiuso, chiuso, oggi, basta! Ma Alberto... Sei licenziato!